Chieti Asta e munca mea ce fac eu, descart faina, la pizzerii Farin E' finito da fare telecamere? Che cazzo era? Stupido Dai, ehi Ciao Ivi, ciao Stiamo ad aspettarci i ferri, puoi scaricare E' cambiato orario, ora puoi scaricare le 3 e mezza, non puoi scaricare più la mattina perchè non si lavora Capito? Ciao, ciao, buona giornata Ma la farina è da scaricare Ok, ora dobbiamo scaricare questa farina Eh, ora devi scaricare Io sto calma che ho paura che non abbia la multa Ma che è? Ho visto che andava subito questo vigile Ma non so perchè andava A posto è andato pure io scappato Ecco, pure la multa ma... A posto Basta Subcrivi Eçar Eçar Rai Sì Passare Attra Passare